Di questa partita c'è ancora da soffrire, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Mastroianni in lunetta, Avellino deve recuperare due punti, Mastroianni la prima confusione è precisa. Con una seconda confusione per Sergio Mastroianni, mancano sei secondi. Seconda confusione per Mastroianni, parte la confusione, realizza Mastroianni in parità. Sei secondi esatti al termine di questa partita, Massimo Guerra, vai alla confusione, Capone conquista Mastroianni, ci vuole dalla lunga distanza. Va dentro, va dentro, Mastroianni, 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 Capone, la provanza dentro al campo, va a messa dentro, una bomba incredibile. E' Serie A, E' Serie A, E' Serie A, la Scandone al termine di una partita incredibile, è tornata, ma in Serie A 1 la Scandone Avellino, che cosa è successo? Non lo so neanche io, ho bisogno di un po' di caldo, la Scandone è in Serie A.